Vincenzo Canali, non a caso il suo metodo si chiama Canali, è questo l'oggetto di questo convegno organizzato a Pesaro e si parla di postura, ma ne parliamo in una maniera totalmente innovativa. Sì, noi siamo il primo metodo internazionale che nasce dalla kinesiologia, quindi non dalla fisioterapia, perché consideriamo la parte muscolare che c'è all'interno del mondo della postura. Noi abbiamo un percorso medico, un percorso strumentale e una parte muscolare. Infatti non a caso abbiamo due medici che si interessano di parte nervosa, sono due neurologi e noi abbiamo portato alla ribalta il concetto che quando all'interno del muscolo il sistema recettivo dà una risposta negativa sul sistema di allungamento o di contrazione del muscolo, produce diciamo delle zone di compenso, quindi il dolore spesso non è un trauma ma è la conseguenza del fatto che il corpo nasconda la parte realmente problematica sovraccaricandone un'altra. Quindi molto spesso noi per andare a lavorare su un problema lavoriamo dalla parte opposta ed è per quello che possiamo lavorare anche come insegnanti di educazione fisica non andando mai a lavorare sulla zona del dolore. E' come se qui anziché andare a curare il sintomo si andasse a curare la causa. E' un po' una vera e propria forma nuova di medicina, lo sappiamo che è questa cui la ricerca sta puntando e mi pare che anche nel suo settore stia avvenendo questo grazie al suo metodo. Sì, questo metodo è fortemente innovativo su questo aspetto perché noi tantissimi anni fa abbiamo capito questa cosa che attraverso la Sapienza di Roma, il CNR, l'Istituto Besta di Milano, lo Sbarro Research University di Filadelfia e anche il Get Well Spine Center di Rovereto che si appoggerà all'ospedale San Camillo di Venezia, stiamo mettendo insieme questo percorso di ricerca. Infatti noi lavorando sulla causa perché i traumi da carico iterativo non sono traumi diretti, un accaduto, un incidente, sono piccole forme di sovraccarico. Negli anni l'organismo legge che quando una parte del corpo è inadeguata e va in difficoltà è meglio sovraccaricarne un'altra. Quando quella sovraccarica non ha più margine arriva il dolore. Quindi noi andiamo a ripristinare la situazione muscolare partendo dalle risposte che i recettori ci danno e questo ci permette di comprendere e di arrivare alla causa del problema.